Siamo arrivati insieme, chi va per primo? Che ne dici se prima di decidere ci beviamo qualcosa? Ok. Ma tu non bevi? No, sono astemio. Anzi, beato te che puoi bere e acquisire più sicurezza. Dici? Certo. Anzi, a sto punto lascio perdere. Vai tu da solo. Davvero? Grazie. Le porterò dei fiori. No, ma che fiori? Li detesta quelli. Vai lì dritto al sodo e le dici, sono tuo, prendimi. Fantastico. Allora vado. Ciao. Vai tranquillo, è già cosa fatta? Sono tuo, sono tuo, prendimi. Sono tuo. Sono tuo, prendimi. Ma come ti permetti? Sei ubriaco e non hai fiori. Vattene. Io invece ho i fiori e sono sobrio. Prego, entra pure. Addio, schizzo. Grazie.